Il Fantafilm Festival Fittizio presenta uno dei Fantafilm più clamorosi, trama. New York! New York! New York! Sono circa le 5 o le 7 a.m. e.p.m. Matthew, Sara, John, Carolina e Carolan e compagnia Bella stanno facendo colazione, quando tra il caffè e il tè si accorgono che il grattacielo non c'è e al posto suo c'è un parco megalitico. Così inizia la Fantastoria, vissuta indiretta e indiretta, perché la curva del tempo non è una retta. Fantastoria scritta in collaborazione con il gruppo invisibile 078 e Vita, l'antimateria nelle dita. Un Fantafilm presa per culetico, su cui farci una strana recensione. Allo stesso tempo un film mistericoso, mistericoso, e strano visto, nell'invisibile ammisto, prossimamente in tutti i schermi, prossimamente in tutti i schermi oculari e visivi tra reali, finti e vivi. Ha 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 Grazie a tutti.